E' stato presentato questa mattina nella sala giunta del comune di Pordenone il progetto Navigare in Centro. Sei dispositivi, tre totemi interattivi e tre punti di proiezione a parete, sono stati installati in altre tante zone di passaggio della città. Navigare in Centro è un progetto predisposto nel 2010 dall'ufficio attività economica del comune di Pordenone, che la regione Friuli Venezia Giulia ha poi in larga parte finanziato ritenendolo particolarmente originale, innovativo e soprattutto efficace dal punto di vista comunicativo. In virtù della sua versatilità, i monitor hanno quindi oggi iniziato a trasmettere un palinsesto di informazioni turistiche, culturali e di pubblica utilità, destinato a crescere e arricchirsi nel tempo. L'assessore al commercio, Bruno Zille. Oggi abbiamo avviato quelle che sono le informazioni relative alla città con questo progetto Navigare in Centro, dei totemi che sono interattivi dove sia l'utente sia le persone che girano in città possono dialogare e conoscere tutte quelle che sono le manifestazioni presenti in città, ma non solo, anche quelle che sono le comunicazioni da parte dell'istituzione pubblica. Credo che questo sia un servizio che possa migliorare l'attrattività e la relazione soprattutto per quanto riguarda il turismo, il commercio e la cultura e tutte le manifestazioni connesse.